Benvenuti al consueto appuntamento con il nostro telegiornale, apriamo il nostro notiziario parlando di quello che è successo ieri a Lars con la votazione sul DDL delle province, il governo cade per la seconda volta e stavolta il tonfo è notevole, si svuotava con voto segreto l'articolo 1 della legge sulle province e il voto ha decretato la bocciatura dell'intero apparato normativo con 25 favorevoli e 40 contrari, un crollo della maggioranza del governo Schifani, il secondo dopo quello sulla legge salva ineleggibili. Per fare un po' il punto della situazione di quello che è successo ieri in Arse, quali saranno le conseguenze anche a livello locale, non solo a livello regionale, sulla maggioranza e sull'opposizione? Abbiamo con noi il vicepresidente Vicario dell'Arse, il deputato del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola. Benvenuto Nuccio Di Paola che è qui con noi. Grazie a voi. Allora Presidente, parliamo di quello che è successo ieri, era nell'aria più o meno che potesse succedere una situazione del genere, non forse con questi numeri. Guarda, noi al Presidente Schifani l'avevamo detto in tutti i modi e in tutte le salse di ritirare questo disegno di legge relativo al ritorno dell'elezione diretta degli organi politici delle province. Avevamo chiesto il ritiro del disegno di legge perché al momento c'è in vigore la legge del Rio e perché ad oggi i siciliani interessa ben poco questo tema anche perché ci sono tantissime emergenze che in questo momento attanagliano la nostra regione. In perterrito il Presidente Schifani è voluto andare avanti e praticamente ieri si è completamente schiantata e si è deflagrata completamente tutta la coalizione di destra perché il risultato è stato eclatante. Ieri sono andati sotto all'articolo 1, quindi all'inizio della votazione del disegno di legge sulle province è 40 a 25. Tu considera Gerry che il Movimento 5 Stelle ha 11 deputati all'interno dell'Assemblea regionale siciliana? Eravamo gli unici che ci siamo contrapposti da sempre a questo disegno di legge, alla fine hanno votato contro in 40, quindi una grossa fetta della maggioranza ha capito che di fatto le nostre argomentazioni che attenzione non erano solo ed esclusivamente ideologiche, ma erano concrete anche per le leggi che al momento sono in vigore a livello nazionale. Se vogliamo fare due conti Presidente, sono circa 11 della maggioranza di centrodestra che hanno votato contro, il che significa che il famoso blocco di Forza Italia contro Schifani o il blocco di Fratelli Italia contro Schifani regge ancora? Ma anche di più secondo me di 11 alla fine sono stati perché noi come opposizione avevamo anche degli assenti. Io credo che in maniera trasversale all'interno dei partiti, io metto dentro pure TC, metto dentro pure l'MPA, Forza Italia, Fratelli Italia, ma anche la Rega, io credo che in maniera trasversale all'interno dei partiti alcuni deputati di maggioranza hanno capito che di fatto quello che si stava facendo non rendeva poi, non si andava a realizzare una legge vera, ma si stava solamente provando a dare seguito alla propaganda di Schifani che ad oggi non trova riscontro tramite le leggi, perché i cittadini devono sapere che nel caso in cui questa legge fosse stata approvata e si andava poi ad indire le elezioni provinciali si rischiava pure un danno erariale, perché a livello nazionale ad oggi vige la legge del Rio e non mi pare che la Meloni e Fratelli d'Italia a livello nazionale stiano ripristinando l'organo politico con l'elezione diretta delle province. Fammi dire un'ultima cosa per ricordare ai cittadini che in questo momento il Presidente Schifani e tutta la destra che ha governato in questi anni non ha fatto le elezioni di secondo livello negli organi provinciali e di fatto da più di sei anni noi abbiamo i cosiddetti commissali, ma la colpa è del governo di destra, perché c'è una legge che permetterebbe di fare le elezioni di secondo livello e ad oggi non è stata applicata. C'è un centro-destra che oggettivamente rischia seriamente di implore a livello regionale, ci sono più fazioni all'interno dei Fratelli d'Italia, più fazioni all'interno di Forza Italia, sono refluenze che vedremo quasi certamente alle amministrative anche a livello locale, è una sensazione che hai anche tu? Assolutamente sì e di fatto noi cosa stiamo contrapponendo per far capire ai cittadini siciliani che forse è il momento anche di cambiare con questi governi di destra, perché ricordo da Musumeci siamo passati a Schifani, stiamo cercando di compattare quanto più possibile il fronte che vede il Movimento 5 Stelle, Sud chiama Nord, è il PD che si sta contrapponendo qui in Assemblea regionale siciliana in maniera decisa e lo abbiamo visto in queste settimane che per ben due volte, hai detto bene tu, per ben due volte il governo Schifani è andato sotto, ma stiamo cercando di estendere questa nostra proposta anche nei territori, proprio per cercare di contrapporre una proposta non litigiosa, ma una proposta concreta che possa finalmente parlare ai bisogni dei siciliani, cosa che oramai la destra e il centro-destra non fa più, perché ricordo che nelle ultime due settimane noi abbiamo parlato di norma ineleggibili che riguardava 3-4 deputati e delle province che di fatto, delle elezioni dirette alle province che di fatto ad oggi ai siciliani interessano ben poco. Refluenza a livello amministrativo, alle prossime amministrative si andrà a votare a giugno quasi sicuramente, non ci saranno le provinciali molto probabilmente, ma c'è da capire adesso quali saranno le coalizioni che si contrapporranno tra di loro in queste amministrative. Del centro-destra abbiamo appena detto i dolori del centro-destra, sulla cora del centro-sinistra se vogliamo comunque sulla cora progressista c'è ancora il dubbio del candidato, l'ultima volta, l'ultima cora avevate detto entro martedì usciranno i nomi e invece il PD continua a prendere tempo, c'è il rischio che anche lì qualcosa possa non funzionare? Ma guarda, ci sta in questi giorni che ogni contenitore possa fare delle riflessioni al proprio interno, noi come Movimento 5 Stelle abbiamo lanciato un messaggio chiaro e forte, il Movimento 5 Stelle ad oggi sta lavorando di squadra, non sta mettendo possibili nomi di candidati a sindaco e quindi sta cercando di tenere unita quanto più possibile la coalizione, ci sono già dei contenitori che hanno proposto dei possibili nomi, li andremo a valutare, io l'appello che faccio, considerando anche le difficoltà in cui si trova la nostra città e considerando che chi andrà a fare il sindaco e chi andrà a fare squadra, andrà a fare l'assessore, si troverà di fronte a delle difficoltà enormi, io l'appello che faccio, ma l'ho già fatto nei giorni scorsi, lo continuerò a fare a tutti i partiti, a tutti i contenitori, dico non per forza bisogna proporre il nome del candidato a sindaco, lavoriamo di squadra, cerchiamo di trovare una sintesi e iniziamo poi a parlare di come vogliamo tirare fuori dalle sabbie mobile la città di Tela, io sono molto fiducioso, qualche altro giorno in più di discussione ci può anche stare, ma poi la Gorà troverà una sintesi chiara, forte e netta. Insomma due belle matasse da sbrogliare sia per il centrodestra che per la Gorà progressista, ringraziamo il vicepresidente vicario dell'Ars, Nuccio Di Paola per essere stato con noi e noi continuiamo con il nostro telegiornale, grazie Presidente. Grazie a voi e buona giornata. Bene, noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, ne abbiamo appena parlato con Nuccio Di Paola dei risultati dell'ultima Gorà, il PD prende tempo e allora vediamo il punto di come è andata l'ultima Gorà in questo servizio di Rosario Cauchi, vediamo. Tempo ulteriore per completare valutazioni interne che nel PD dovrebbero poi condurre ad individuare un potenziale candidato da inserire nel novero di quelli che corrono per guidare la coalizione alternativa al centrodestra dei partiti all'amministrazione greco. Ieri doveva essere la volta buona per una prima verifica sui nomi per fare sintesi e cercare di mettere sulla stessa direttrice gran parte delle anime della Gorà politica. I contatti ci sono stati, i DEM però hanno necessità di proseguire un approfondimento interno, non è da escludere che si possa tenere un'assemblea cittadina come è già chiesto da alcuni esponenti locali. Il fine settimana potrebbe dare ulteriori risvolti. La struttura commissariale retta dall'ex parlamentare Ars Giuseppe Arancio sta cercando di sviluppare un percorso interno che per alcuni dirigenti non potrà che passare da un'assemblea oppure da una consultazione più analitica. Negli ultimi giorni i DEM si sono più volte riuniti, grillini e civici, altri pilastri originali del progetto città, attendono ma non proprio con le braccia aperte. Si sarebbero aspettati probabilmente una decisione entro il termine previsto, cioè quello di martedì. Al momento, come già ricordato, i nomi in ballo per una potenziale candidatura nel contesto dell'Agora sono quelli dell'ex vicesindaco Terenziano Di Stefano per il progetto civico con una buona idea e civico lab di Miguel Donegani, fondatore del laboratorio OPER e sostenuto anche da sinistra italiana e dalla lista 2029. I DEM staranno nel quadrante tracciato oppure cercheranno di inserire una loro scelta in cerca di condivisione più ampia se lo chiedono i potenziali alleati e nel partito se lo chiedono pure diversi esponenti. Negli ultimi giorni in Casa Democratica è riemersa l'opzione delle primarie di coalizione, via indicata già in tempi non sospetti dall'ex segretario cittadino Guido Siragusi, adesso suffragata da altri dirigenti. Un passaggio di selezione che non convince per nulla invece né i grillini né i civici la ritengono poco praticabile. C'era stata la scorsa settimana in assenza dei moderati un'intesa di massima sui criteri da adottare per individuare il candidato più rappresentativo ma senza prevedere le urne delle primarie. Tra i DEM invece non sono assolutamente un tabù. La Gorà potrà portare ad un candidato a sindaco, ad una coalizione strutturata, solo se ci sarà una piena condivisione sul nome e sul metodo di scelta. Il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola fino ad ora ha cercato di contemperare tutte le inclinazioni strategiche suggerite dalle anime della Gorà. E' convinto che qualche giorno in più per la scelta può comunque andare bene. Vuole in ogni caso stringere e arrivare ad un nome che abbia la possibilità di mettersi alla guida di una coalizione ampia alternativa. Il centrodestra dell'amministrazione greco non intende finire nella rete dell'eccessiva melina. Altri tatticismi che possano far slittare ulteriormente il momento della scelta potrebbero non essere più accettati. E passiamo alla cronaca. Il questore della provincia di Caltanissetta, Pinuccio Albertino Agnello, ha emesso 27 provvedimenti di avviso orale nei confronti dei responsabili della corsa clandestina dei cavalli effettuata lo scorso 20 ottobre lungo la via serbatoio del comune di Niscemi. I poliziotti e il commissariato di pubblica sicurezza intervennero interrompendo la corsa clandestina, identificando tutti i partecipanti e segnalando i fatti alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela. Ove in atto è pendente il procedimento penale e i reati contestati agli indagati a vario titolo sono competizione non autorizzata e pericolosa per l'integrità degli animali e interruzione della circolazione stradale. E ieri vi abbiamo parlato abbondantemente dell'inaugurazione della control room presso il commissariato di pubblica sicurezza. Da ieri Gela è davvero una città videosorvegliata con un sistema all'avanguardia che d'ora in poi potrà essere usato dalle forze dell'ordine per combattere e in alcuni casi anche prevenire i crimini. Un impianto all'avanguardia con 26 punti di osservazione e 93 telecamere che riescono a leggere le tag e a seguire gli spostamenti anche per una settimana. E tutto questo dovrebbe, come dicevamo, servire da deterrente. Lo conferma anche l'architetto Tonino Collura che ne ha curato per il comune la messa in opera ai particolari dell'impianto in questo servizio. Gela città videosorvegliata racconta così un cartello che domina l'ingresso della città sin dall'era Crocetta. Un cartello che per decenni ha raccontato però una bugia ma che oggi, dopo un infinito iter burocratico, finalmente risponde alla realtà. Perché da ieri Gela è davvero una città videosorvegliata con un sistema all'avanguardia che da ora in poi potrà essere usato dalle forze dell'ordine per combattere e in alcuni casi prevenire i crimini. Solo nell'ultimo anno la risoluzione di gran parte dei reati è stata possibile solo grazie ai sistemi di videosorveglianza installati da privati cittadini. Due su tutti la sparatoria al GB Oil, dove l'occhio elettronico raccontò per filo e per segno prima la rissa e poi lo sparo di Di Giacomo, e la sanguinosa spedizione punitiva in via Generale Cascino, che solo per un fortunato caso non culminò in omicidio. Anche in quel caso la videocamera dell'attività commerciale raccolse tutte le immagini che poi finirono in mano agli inquirenti. Il nuovo sistema, presentato ieri in commissariato, consentirà adesso alle forze dell'ordine di avere già disponibili le immagini della città, senza la perdita di tempo prezioso nel doverle cercare tra le varie videocamere private. A Gela da oggi ci sono 26 punti di osservazione, 93 telecamere che riescono a leggere le targhe e a seguire gli spostamenti anche per una settimana. Dalla sala controllo della polizia i dati vengono memorizzati in un software e in ognuna delle due sale operative sono presenti tre monitor. Le immagini si possono zoomare per definire persino gli oggetti più distanti. Il transito dei veicoli può essere ricostruito cronologicamente attraverso il numero di targa. Un impianto all'avanguardia insomma, che servirà anche da deterrente, come spiega l'architetto Tonino Collura, che ne ha curato per il Comune la messa in opera. Sicuramente è un sistema che garantisce la sicurezza dei cittadini. È un sistema molto complesso, abbiamo 93 telecamere, 26 punti di osservazione, 20 telecamere che leggono le targhe, dislocate in vari punti della città, soprattutto nella parte di ingresso. Questo garantirà ai cittadini una maggiore sicurezza nel transito, nella ricostruzione anche di atti vandalici, quindi uno strumento importante per la tutela e la sicurezza pubblica di tutti i cittadini. L'impianto attuale è stato realizzato con un investimento di 400 mila euro di fondi comunali. Nei prossimi mesi si aggiungeranno altri 250 mila euro del PON Legalità del Ministero dell'Interno, che implementeranno ulteriormente i varchi videosorvegliati e consentiranno la realizzazione di una terza sala di controllo presso il comando della Polizia Municipale. Il presidente della SRR, Vincenzo Marino, è intervenuto sulle ultime vicende legate al servizio rifiutiato. È evidente le distanze con Lucio Greco e i particolari in questo servizio. La prossima settimana, come abbiamo già riferito, potrebbero arrivare novità consistenti per gli equilibri interni del lato CL2 e liquidazione. L'Assemblea, riunitasi martedì, inizierà a discutere del futuro del commissario Giuseppe Lucisano, negli ultimi anni alla guida dell'ambito dopo aver preso il posto del suo predecessore Giuseppe Panebianco. I sindaci di Niscemi, Butera, Riesi, Mazzarino, Sommatino e Degli hanno dimostrato di non riconoscersi più nelle scelte del commissario e non si ritrovano neanche nelle posizioni dell'avvocato Lucio Greco. Il presidente della SRR4, Vincenzo Marino, primo cittadino di Mazzarino, nel fronte che spinge per superare la gestione Lucisano e la fase di liquidazione del lato, conferma quali sono alcuni cardini dell'attività svolta dalla società che controlla impianti SRR e l'In-House alla quale è stato affidato il servizio rifiuti e che porta avanti la piattaforma di Chimpazzo. Rispetto infatti al rilievo mosso dal sindaco greco, secondo cui la società controllata impianti SRR non avrebbe dato risposta alla richiesta di prendersi cura di aree verdi e rotatorie, secondo Marino va semplicemente ricordato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta dello scorso 10 gennaio ha deliberato di farsi carico dell'eventuale finanziamento di rotatorie o aree verdi cittadine, ma previa presentazione entro 60 giorni ai relativi progetti di intervento. È un punto sul quale ci sono state non poche differenze di vedute tra l'amministrazione comunale e la guida di impianti SRR. Un servizio di questo tipo non era previsto nel contratto iniziale che è stato stipulato. Marino esclude ancora che gli altri sindaci non abbiano avuto la volontà di sostenere il riavvio da subito del sistema di compostaggio di Brucazzi sotto sequestro per un lungo periodo, come a sua volta invece ha spiegato il sindaco greco. Ancora una volta il presidente della SRR ribadisce invece quella che è la posizione dei suoi sindaci sulla gestione delle impiantistiche e degli asset di Ato rifiuti. Rifacendosi alla legge regionale, ritiene infatti che Ato non possa portare avanti attività e che debba quindi andare incontro alla chiusura della fase di liquidazione. Per questo aspetto, sottolinea anche in una nota, i soci hanno concordato di coinvolgere il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti che nel 2021 durante la fase emergenziale ha affermato che la gestione era adiato ma che sul punto era stato chiesto comunque un approfondimento all'avvocatura dello Stato di cui non si hanno ancora notizie. I sei sindaci infatti spingono per un subentro della SRR4 in tutti i rapporti giuridici facenti capo ad Ato Celle 2 in liquidazione. La fase di liquidazione invece va chiusa prima possibile. Secondo Marino infine fuorvianti appaiono le affermazioni secondo cui la SRR e la impianti SRR avrebbero finanziato anche il carnevale dei comuni soci. Secondo il presidente della SRR nella seduta dello scorso 10 gennaio si è soltanto deliberato distanziare le somme per l'avvio delle attività di comunicazione relative al primo semestre dell'anno 2024. Andiamo a Caltanissetta dove la procura su disposizione del GIP del Tribunale ha sequestrato beni per circa 76 mila euro a un medico nisseno nell'ambito di un'indagine per truffa aggravata e danni dello Stato che ha coinvolto il professionista. Le indagini condotte dalla locale sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza avrebbero consentito di rivelare che il medico che aveva un contratto in rapporto esclusivo con l'ospedale Sant'Elia avrebbe in realtà condotto un'attività parallela presso il proprio studio pur percependo indebitamente l'indennità riservata a questo tipo di contratto. I finanzieri a seguito del provvedimento del GIP su richiesta alla procura hanno quindi bloccato e sottoposto a sequestro preventivo per equivalente i conti correnti e un immobile di proprietà dell'indagato fino al raggiungimento dell'importo di circa 76 mila euro corrispondente all'indennità che sarebbe stata indebitamente percepita dal professionista erogata dall'ente ospedaliero. E sono più di 20 coinvolti in un'inchiesta che individuò presunte irregolarità su operazioni di compravendita e fornitura di gasolio. Il caso adesso è arrivato in giudizio. Vediamo. Ci sarebbero state irregolarità nelle operazioni che facevano arrivare gasolio in città anche da altri stati, soprattutto Croazia e Bulgaria. Già due anni fa ci fu il rinvio a giudizio per oltre 20 imputati. La vicenda è arrivata davanti al collegio penale del Tribunale. L'inchiesta fu ribattezzata Acquaraggio a ricostruire una presunta filiera alimentata da violazioni pure rispetto alle accise imposte sui carburanti. A causa di alcune mancate notifiche, l'apertura del dibattimento è stata rinviata alla prossima udienza utile. La Procura, in fase di udienza preliminare, chiese il rinvio a giudizio per le posizioni Damiano Sciuto, Alessandro Caldarera, Daniele Borchio, Claudio Iacono, Pasquale Famà, Francesco Destradis, Giuseppe Adornetto, Marco Befumo, Carmelo Arcidiacono, Vincenzo Paternò, Carmine Pellegrino, Rosario Barone, Josco Smerdel, Simon Smerdel, Emanuele Lignano, Filippo Piccione, Rocco Calaciura, Mario Alario, Calogero Curto, Rosario Cassero, Claudio Bonaventura e Ghetano Reale. Per i militari della Guardia di Finanza e per gli operatori dell'Agenzia delle Dogane, il gasolio veniva rivenduto a condizioni di favore tra i destinatari titolari di alcune attività. Pare venisse stoccato in un deposito a poca distanza alle frazioni balneari della città. Tutti i coinvolti hanno sempre escluso irregolarità. Secondo la linea difensiva, infatti, sarebbe stata rispettata la normativa in materia. Cambiamo decisamente argomento e ci spostiamo al cartodromo. da oggi e per i prossimi tre giorni. Al cartodromo internazionale di Gela sarà possibile noleggiare le moto Vale GP2-110A. Il noleggio offre sessioni dedicate a tutti gli appassionati, dando la possibilità di sentirsi veri e propri piloti per un giorno. La pista aperta a tutti coloro che desiderano vivere l'ebbrezza di guidare una moto su un tracciato avvincente e tecnico. Oggi le approvate per noi la nostra Maria Chiara Ciascia. Vediamo. Questa non è una minimoto, è una moto piccola, una vera e propria moto GP piccola. E adesso andiamo in pista. Ragazzi alle moto. Motovale arriva anche a Gela. Sì, siamo arrivati anche in Sicilia a Gela. Abbiamo altre tappe in programma. È un progetto che facciamo su tutto il terreno italiano e speriamo anche di andare all'estero. Questa qui è una motina progettata apposta per il rental, adatta a tutti, dai 13 anni a non c'è limite di età. Qui abbiamo una moto automatica, 110 automatica con 8 cavalli. L'Ovale fa parte della Mini GP World Series, che sarebbe la moto GP dei ragazzini che si svolge ogni anno a Valencia. Nulla. Venitelo a provare. Noi non resistiamo, stiamo già scendendo in pista. Che esperienza è stata fare un giro con la Motovale? Allora, è sempre una bellissima esperienza perché io sono un grandissimo appassionato di moto. È la prima volta che guido l'Ovale e non l'ho mai guidata ed è stata una sensazione bellissima perché siamo sempre lì. È sempre una moto e io in una moto ci vedo un'anima ed è come dialogare con una persona. Poi l'asfalto oggi del cartodromo di Gela è bellissimo, è curato, la temperatura è anche perfetta. Qual è stata la differenza con le altre moto che hai guidato? Allora, la differenza è che io ho guidato moto sempre più grandi. Questa è sempre di dimensioni più piccole, più leggera, più maneggevole ed è una bella sensazione. Non soltanto un momento dedicato agli uomini, ma anche alle donne. Che esperienza è stata questa di girare nel cartodromo internazionale di Gela? Un'esperienza totalmente nuova perché è una delle piste più grandi che io personalmente ho provato, quindi adrenalina. Ovale è soltanto il primo degli appuntamenti sportivi della stagione del cartodromo qui della pista del Mediterraneo. Apriamo oggi con la prima del quattro giorni dedicata ad Ovale ufficiale, significa una moto da competizione a tutti gli effetti, una derivazione della MotoGP, ma più piccola come dicevamo prima, ed avete la possibilità di venirla a provare. Poi proseguiremo sicuramente con il 17 marzo, una gara di moto, la prima dalla riapertura della pista e, mi raccomando, il clou dell'evento. Il 17 maggio con il Giro di Sicilia e 210 macchine d'epoca provenienti da tutto il mondo. Una notizia di sport prima di chiudere, una stangata vera e propria quella che ha colpito il Gela dopo la partita al Gaeta di Enna. L'allenatore Mirko Fauciana è stato squalificato fino al 20 febbraio per condotta antisportiva nei confronti di tesserati avversari. Ben 5 le giornate per Gioele Golisano, protagonista di un gesto definito deplorevole dal giudice sportivo. Tre giornate di stop per il difensore Pedro Martinez, espulso per reciproche scorrettezze, ma la cui condotta è stata giudicata violenta. Un turno di squalifica anche per Simone Veca, espulso per doppia munizione per Federico Rechichi, che ha toccato la quinta munizione in campionato. A questi si aggiungono Resuf, che deve scontare la seconda giornata di squalifica e l'infortunio di Bellomo da valutare. Sarà dunque un Gela in emergenza in vista dell'impegno con il Milazzo, Domenica Alpressi. Fauciana dovrà attingere dalla formazione Juniores, ma in difesa diventa complicato considerato che sono rimasti i soli Gambuzza e Tuve. L'ultimo arrivato Longo non ha i 90 minuti sulle gambe, ma con tutta probabilità dovrà ugualmente giocare da titolare. Un Rebus invece per la fascia destra, dove mancano tutti i tersini e lo sessore Chichi, seppur adattato, sarà squalificato. E contro il Milazzo servirà quindi una impresa per domenica. Bene, questa era la nostra ultima notizia, siamo in chiusura, naturalmente se volete approfondire tutte le nostre notizie le trovate sul sito www.quotidianoigela.it, se invece volete rivedere o condividere tutti i nostri servizi, li trovate tutti sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e YouTube. Per il momento è tutto, vi lascio come di consueto alle nostre previsioni meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.